Ne avevamo già scritto poche settimane fa, quando due delle amiche di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 a Roma, sono state ascoltate dalla commissione di inchiesta che indaga sulla sua misteriosa sparizione. Poche ore fa, due delle audizioni sono state rese integralmente pubbliche dal Senato e abbiamo selezionato i passaggi più significativi che potrebbero aiutare ad aggiungere qualche tassello a questo oscuro mosaico lacannata, condivideva con Emanuela solo. La classe di solfeggio spesso uscivamo insieme da scuola e facevamo una passeggiata raccontato alla commissione prendevamo un gelato, siamo diventate amiche in questo modo, parlavamo di cose da ragazzine, come i buchi alle orecchie o i vestiti. Era una ragazza solare, sulle cose sue personali, però era molto riservata, sorrideva molto, era spensierata. Ci siamo frequentate qualche mese e ricordo una volta in cui mi invitò a pranzo a casa, con la sua famiglia, una famiglia estremamente semplice e normale, molto serena, molto tranquilla, un ambiente positivo. La sorella mi accennò qualcosa riguardo una telefonata che Emanuela aveva fatto, dicendo che avrebbe fatto del volantinaggio o qualcosa del genere e che ne aveva avvertito la famiglia. Diceva che aveva avvertito che avrebbe fatto un po' più tardi, perché le avevano proposto di distribuire dei volantini. Mio padre, che era un magistrato, fu anche di aiuto, perché lavorava alla Procura della Repubblica. Purtroppo però, nel giorno in cui non è tornata a casa non ero andata alla scuola di musica. Mio padre ha avuto subito un'idea non tanto positiva. Pensava che difficilmente sarebbe stata ritrovata. Mi esprimeva i suoi timori. A casa di questo argomento non abbiamo più parlato. La cannata ha aggiunto anche un particolare interessante sulla scuola di musica. Era una scuola piena di gente. C'era continuamente gente esterna e interna. Anche perché venivano organizzati degli eventi come piccoli concerti. Quindi, era un via vai continuo di gente. Era veramente una scuola frequentata da tantissime persone. Spesso i genitori accompagnavano fino a dentro la scuola i figli. Alcuni erano preti che facevano lezione, mentre altri erano laici che venivano a fare le sostituzioni quando mancava qualche professore. Poi si tenevano questi mini concerti, dove c'era un pubblico. Quindi, oggettivamente c'era un gran via vai, ed era difficile capire chi fosse un intruso. Se vogliamo così chiamarlo. Era una scuola molto grande e molto frequentata. Essendo quella una scuola privata. L'accesso era aperto a tutti, indistintamente. Una delle domande che mi è stata fatta moltissime volte è se potevo pensare che si fosse allontanata volontariamente. La percezione che avevo della persona è che non l'avrebbe mai fatto, conoscendo lei e la sua famiglia, i suoi fratelli e le sue sorelle. Anche la sua vita. Non penso l'avrebbe mai fatto, perché non aveva nessun motivo.